Entri in un'azienda meritocratica, attenta alla crescita, alle risorse umane, quindi alla formazione. C'è il percorso di inserimento, la formazione, gli strumenti che l'azienda ti mette a disposizione. Sicuramente non ti senti mai perso, si è seguiti in ogni momento della formazione. E poi un altro vantaggio è la crescita in tempi brevi. Ho percepito che in azienda c'era grande attenzione nella crescita delle nuove risorse umane. Sin dall'inizio, sin dalle prime settimane, sono iniziati corsi di formazione in aula e l'affiancamento nell'attività lavorativa sul campo. Una formazione pratica all'interno dei nostri uffici, all'interno delle nostre agenzie immobiliari, attraverso quello che è un progetto della Golden Domus Academy, quindi un'accademia, un progetto dedicato unicamente alla formazione delle nuove risorse. Di avere ottimi margini di crescita, sia dal punto di vista professionale che da quello economico.